Senti, pensavo che solo il più vecchio dei maghi guerrieri potesse aprire nuove brecce. Non sei tu? Cosa stai insinuando di preciso? Siamo gli ultimi due maghi guerrieri e tu sei vecchia. Cioè, più vecchia di me. Non intendo decrepita o roba del genere, cioè ti mantieni benissimo. Ma davvero? Continua. Dai, lo sai cosa voglio dire? Le cose stanno per mettersi male, per loro. Un vero spasso, davvero. Giusto così! Non lo vedranno neppure arrivare! Fatevi sotto! Che bellezza! Come on! E' ora di fare una pausa Questo sarà divertente Sono sempre pronto Wow, questo deve essere un record Questa mi piace Ehi, guarda! Servizio in camera! 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 Prova un po' questo. Quando voi ragazzi siete pronti! Alla prossima! Ehi, ma quelli quanti erano? Alla prossima! Andiamo! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!